Tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe tornato il sereno dopo la presunta crisi di coppia che ha infiammato il gossip per settimane. Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal settimanale oggi, tra i Ferragni sarebbe stato raggiunto un accordo con Fedez che avrebbe chiesto alla moglie di limitare le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion. Nel mentre si parla anche di una presunta lite tra Fedez e l'amico Louise Sal. Sempre secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stata Chiara Ferragni a chiedere al marito di scegliere tra lei e l'amico. Louise Sal è infatti sparito da Muschio Selvaggio, il podcast condotto con Fedez. Grazie a tutti. Grazie a tutti.